Buongiorno dal Tg della mobilità da stasera a domenica per lavori stradali la ferrovia Roma Lido sarà interrotta a partire dalle ore 21 e 30 tra le stazioni di Asciglia e Colombo in alternativa alle linee di bus 0406070. Gli eventi in città questa mattina dalle 10.30 alle 13.30 protesta a piazza Castellani dei pressi del Ministero della Salute e in sitina anche in serata dalle 18.30 alle 20 a piazza del Popolo. In serata in prate dalle 21 alle 23 di Vete di Sosta su via Costa, via Cesi e via Lucrezio Caro per la cerimonia di commemorazione che si terrà in via Pietro Costa dove il 26 luglio di un anno fa venne ucciso il brigatiere dei Carabinieri Mario Cercello Rega. È tutto per questa edizione del Tg della mobilità.